Grazie, caro Presidente, caro Vice Presidente, autorità, sindaci, penso che per voi, innanzitutto per questa platea, è un bel motivo di orgoglio quello di oggi poter assistere al varo del reddito di solidarietà, è un po' una medaglia che l'Emilia Romagna, che ne ha già tante, comunque oggi può appuntare al proprio petto, perché è con orgoglio che si può dire che con questa misura, con questa decisione, si dà un contributo decisivo a una partita che lo stesso Governo a livello nazionale sta cercando di giocare, sulla quale noi ci siamo impegnati e sulla quale sappiamo benissimo che dobbiamo continuare a impegnarci e dobbiamo fare di più, ma intanto è veramente il momento di dire grazie all'Emilia Romagna per la decisione che è stata presa e che oggi viene sancita, grazie davvero. Il tema per me, per il Governo che è nato poco più di nove mesi fa, è stato un tema di preoccupazione e impegno sin dai primi mesi, dalle prime settimane addirittura, il tema era come portare a compimento un lavoro che il Governo aveva avviato, il Governo Renzi e che aveva bisogno di essere concluso al Senato, trasformato il disegno di legge in decreti attuativi, risolte diverse partite autorizzative, reso possibile il fatto che il reddito di inclusione per la prima volta uno strumento nazionale, come è stato ricordato, diventasse effettivamente operativo almeno per quel milione e 600 mila persone ai quali nella sua versione attuale si indirizza dal primo gennaio dell'anno prossimo. Se vi ricordate ci fu anche una discussione qualche mese fa, facciamo un decreto, vedo che ci sono dei parlamentari qui nella nostra assemblea facciamo un decreto o rischiamo la strada del disegno di legge e dei decreti attuativi, alla fine io credo e colgo l'occasione per ringraziare di questo anche il Senato e i diversi organismi che hanno partecipato che possiamo dire con orgoglio che questo strumento sarà operativo dal primo gennaio dell'anno prossimo. Il metodo di questa operazione, che è molto simile peraltro perché il reddito di solidarietà in un certo senso moltiplica l'effetto del reddito di inclusione, lo raddoppia addirittura estendendo nella platea, il metodo è molto importante e ci dice due cose. La prima è che si può, anzi si deve, lavorare insieme tra istituzioni e questa alleanza contro la povertà che raccoglie voci diversissime della rappresentanza e della società civile. È stato un punto di forza per voi qui in Emilia Romagna è stato un punto di forza a livello nazionale, aver concluso questa proposta del reddito di inclusione alla fine, non alla fine, nel corso perché il lavoro come dicevo continua di un confronto e di un tavolo permanente tra governo e questo arcipelago di organizzazioni della rappresentanza. E il secondo aspetto di metodo che sottolineerei è che regioni e Stato si danno la mano, lavorano insieme e spingono nella stessa direzione. Avviene in Emilia Romagna, avviene in un altro paio di regioni che ci siano degli strumenti che moltiplicano l'impatto del reddito di inclusione. Dobbiamo cercare di farlo in modo ordinato come viene realizzato qui in Emilia Romagna in cui i destinatari delle nostre misure di sostegno non siano costretti dal fatto che ci sono diversi soggetti che le promuovono a fare percorsi burocratici differenziati e anche qui credo ci sia un buon esempio nel reddito di solidarietà dell'Emilia Romagna perché si intreccia con lo strumento nazionale e semplifica la vita a chi ne ha bisogno. Ci mancherebbe anche che chi è in difficoltà ed è in una situazione di povertà sia sottoposto magari anche dalla nostra buona volontà a competere tra istituzioni a un sovraccarico di impegni e di fatiche burocratiche. C'è un messaggio io credo che è un messaggio per tutti noi, un messaggio per l'Italia e che dice che proprio in momenti come questi nei quali si intravede finalmente un certo ottimismo circa la nostra situazione economica, almeno l'ottimismo dei grandi numeri, l'ottimismo macroeconomico, l'ottimismo delle cifre globali sulla produzione, sulla crescita, sull'occupazione eccetera 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 e senza l'ottimismo di queste cifre non si riesce a fare quei passi sociali necessari che tuttora dobbiamo fare ma è in questi momenti che un paese civile, che un paese serio deve mettere all'ordine del giorno questioni come la povertà, l'esclusione, le difficoltà delle persone. Se non lo fai nei momenti in cui l'economia riprende a tirare sarà molto difficile poi farlo nei momenti di crisi e di difficoltà. Quindi il momento di intervenire è oggi, oggi è il momento di porsi il problema del fatto che anche quando l'economia riprende a tirare noi abbiamo dei dati straordinari in alcuni settori della produzione, dell'export, dei primati anche italiani dal punto di vista manifatturiero. Domattina sarò a Milano a inaugurare la fiera del settore, non c'entra niente con il tema di cui parliamo oggi, ma comunque del settore calzaturiero, per dire uno dei settori in cui l'Italia è primatista mondiale di surplus commerciale, ma lo è non per caso perché capacità artigianale, coraggio delle nostre imprese, radicamento e devo dire un po' ci vado anche perché buona parte di queste imprese sono imprese marchigiane, cioè di un territorio che è stato duramente colpito dalle sequenze di terremoti di questi anni. Allora quando hai delle eccellenze, quando hai dei numeri che finalmente danno dei segnali positivi, ti devi porre il problema di chi rischia di rimanere indietro. Perché togliamoci dalla testa il fatto che se è una regione ricca, se un paese ha un livello di benessere elevato, questo non comporta l'esistenza di zone di esclusione e zone di povertà. Non è così, il mondo ormai lo conosciamo ed è fatto in questo modo e quindi anche una regione come l'Emilia Romagna che può vantare i dati di cui parlava prima Stefano in termini di crescita, di riduzione della disoccupazione, non è affatto immune dai problemi della povertà e dell'esclusione, anzi ha responsabilità maggiori nel doversi porre questi problemi, perché se tu stai meglio devi porti il problema di dare aiuto a chi è in maggiore difficoltà in misura maggiore di altre società che magari hanno un equilibrio più consistente. È dove c'è il benessere che bisogna intervenire sulle sacche di povertà. Qualche giorno fa ho fatto una gaffa alla quale vorrei riparare oggi, alla Fiera del Levante ho parlato di Don Tonino Bello, il vescovo di Molfetta, definendolo il sindaco di Molfetta, forse perché ero molto amico del sindaco di Molfetta. Il vescovo di Molfetta, Don Tonino bella, mi ricordava un mio amico, diceva una frase abbastanza scioccante e cioè diceva non dobbiamo consolare gli afflitti, dobbiamo affliggere i consolati, cioè dobbiamo spingere perché dove c'è una situazione per l'appunto di relativo maggiore tranquillità sul piano sociale ci si impegni in modo particolare, ci si impegni di più. E infine fatemi dire una parola su questa platea perché è una platea piena di fasce tricolori, piena di sindaci, è una platea piena di istituzioni che ci rappresentano dal punto di vista della sicurezza, della difesa del territorio ed è una platea piena di rappresentanti delle forze sociali, sindacali, del volontariato, è l'Emilia Romagna, in fondo è anche l'Italia e ricordiamoci sempre di essere orgogliosi di questo tessuto sociale. Poi possiamo avere opinioni diverse e ne avremo e come nelle prossime settimane quando si discute una legge di bilancio è proprio il momento in cui con la rappresentanza dei corpi intermedi, con le forze sociali i governi discutono in modo più accanito. Ma il punto non è questo, non si tratta di omologare il proprio punto di vista, si tratta di riconoscersi a vicenda e di essere consapevoli che se l'Italia è il paese che è, con le sue attrattive, con la sua capacità anche di primeggiare nel mondo, lo deve a tanti fattori ma tra questi fattori c'è anche quell'elemento di coesione sociale che gli viene dalla ricchezza, dalla tradizione, dalla forza dei propri corpi intermedi. E' per questo che io voglio rendere voglio rendere omaggio anche al tipo di platea con la quale oggi mi confronto e che è stata il motore di questa bella iniziativa. Un'iniziativa è già stato detto, credo che dobbiamo averlo tutti bene in mente, che dobbiamo presentare ai destinatari non soltanto come un paracadute ma anche come un ponte. Io ho visitato qualche giorno fa la cittadella della solidarietà della Caritas a Roma e loro ci tenevano molto a sottolineare che facevano ogni sforzo, poi magari non sempre ci riuscivano con tutti, ma comunque per affermare la transitorietà dei passaggi in quelle strutture. Noi dobbiamo essere consapevoli che anche questo è un impegno fondamentale sia del reddito di inclusione che del reddito di solidarietà. Sono forme di sostegno che devono venire incontro alle persone più in difficoltà ma che devono accompagnarsi a politiche attive, lavoro di inclusione. Sarà un po' complicato perché è più facile staccare, non sempre, ci inventiamo difficoltà anche per le cose facili, ma comunque in teoria è più facile elargire un contributo che non associare a questo contributo una politica di inclusione. Però dobbiamo sapere che se non facciamo anche la seconda parte facciamo solo una metà del nostro lavoro e che la seconda parte è forse importante altrettanto della prima. Quindi reddito di solidarietà, reddito di inclusione non a caso hanno due nomi che si incrociano abbastanza tra loro perché sono le due cose che dobbiamo fare insieme, solidarietà e inclusione. Penso che abbiamo la forza per farlo e che lavorando insieme il Governo, lo Stato, la Regione Emilia Romagna, le autorità locali, il terzo settore, il volontariato, le forze sindacali a questo obiettivo così bello e così ambizioso possiamo effettivamente puntare. Grazie.